Salve ispettore, la chiamo dalla reception a proposito dell'indagine in corso sulla morte del signor Rodriguez Tressler. La informo che una delle ragazze incaricate dalle pulizie dell'albergo ci ha detto che verso le sette meno un quarto, cioè poco prima che si udisse lo sparo, le è sembrato di sentire una voce femminile dentro la stanza. Purtroppo non è riuscito a cogliere ciò che diceva, ma è sicura che ci fosse qualcuno. Spero che questa informazione possa esserle utile. Grazie, arrivederci. Grazie.